Proprio il momento di dire basta perché non ne possiamo più. Sono esasperati i residenti di via Balzarini a Teramo da quando hanno dovuto abbandonare le loro case lesionate dal terremoto del 2016. Sono stati trasferiti nel complesso di via Balzarini nella zona di Colleparco, ma da alcune settimane sono senza riscaldamento. L'Enel ha interrotto l'erogazione dell'energia elettrica che alimenta il sistema di riscaldamento centralizzato, quindi condominiale, per morosità. Questa mattina alcuni dei residenti, 17 gli alloggi occupati su un totale di oltre 50, si sono presentati al Parco della Scienza in occasione del Consiglio Comunale per rappresentare la loro situazione e le difficoltà con cui devono convivere i cittadini, soprattutto chi è in una condizione di salute precaria. Ho i miei genitori di 84 anni che vivono segregati lì, hanno fatto credere che fosse una palazzina di prima categoria, quando invece non è così. Dovevate restare lì solo tre anni? Dovevo restare lì solo tre anni e poi avrebbero dato di nuovo la nostra abitazione di prima appartenenza. Bollette non pagate, somme per un importo anche superiore a 4.500 euro a famiglia. Anche perché non è una palazzina che si possa pagare questi soldi qua, perché siamo, a parte siamo, ecco, delle case popolari dell'Ater. Io sono pensionato, se pago questa somma non posso mangiare. Noi non ce la facciamo più, io personalmente non ce la faccio più. Nonostante tutto però l'impegno a pagare c'è da parte degli inquilini. Certo che sì, infatti noi abbiamo anche le ricevute dei versamenti fatti, che appunto per dimostrare la buona fede, perché non è che non vogliono pagare, i miei genitori fanno un versamento mensile di quello che possono, 50-100 euro, che è comunque la spesa di un normale condominio. Non avete corrente a casa? Perché siccome sono 17 famiglie e il palazzo ne sono 54 appartamenti, come fanno a sostenere 17 famiglie una spesa tale? Poi non sono ripartiti per millesimali, non ci sono tutte queste cose legali fatte bene.